Salve a tutti amici di KiptoJam e benvenuti a un nuovo video, allora oggi andiamo oltre a parlare che ovviamente di una veloce analisi su bitcoin, scusate se in questi giorni sono assente ma ero in viaggio e sono in Italia in questi giorni quindi fra spostare l'attrezzatura, spostare le cose, viaggiare, comunque non ho potuto fare molto i video e seguire però ovviamente in questo momento stiamo andando avanti un po' con i nuovi indicatori che stiamo creando nella community, come vedete l'ultimo segnale dato prima del dump è stato veramente un segnale di successo e al momento ragazzi volevo anche parlarvi di Avotio che ormai siamo molto vicini alla fase di lancio, il lancio sarà su PancakeSwap il 15 e ovviamente c'è una grande offerta all'ultimo minuto, un grande lancio all'ultimo minuto, una grande fase di sale all'ultimo minuto a un prezzo veramente veramente assurdo, quello di un centesimo e il lancio sarà a 5 centesimi, il fatto è questo, adesso ne andiamo a parlare però innanzitutto volevo fare un veloce recap di bitcoin e il nasdaq soprattutto in questi giorni, allora intanto andiamo a vedere il nasdaq, come vedete il nasdaq, questo è uno studio che stiamo facendo ormai da più di una settimana a due e come vedete questo è un harmonic bearish pattern che ovviamente coincide con il livello 61 del golden ratio di cui ho parlato spesso nei video precedenti ancora prima del dump, anche sul mio twitter se andate a vedere avevo twittato mesi fa prima che, oppure settimane fa prima che arrivasse a questo livello i livelli a cui mi aspettavo il dump iniziasse, ok? quindi c'è il mio twitter se volete seguitelo qua giù, c'è ovviamente il discord, tutti questi studi vengono fatti in anticipo, come vedete ha seguito il manuale alla perfezione, ok? quindi come vedete in questo momento questo è il gem indicator, ci dà anche i livelli di supporto e resistenze, ovviamente ho fatto uno shot qua che è stato molto molto profittevole perché coincideva con la rottura e c'era anche il segnale sulle 4 ore e vediamo che in questo momento noi siamo fermi sui 2800, ok? questo è a rotto, siamo sotto alla zona dei 13000, ok? se rimaniamo troppo alla zona dei 13000 e non si recupera nel giro di una settimana probabilmente il dump continuerà e potremo vedere anche i livelli dei 12500 e poi giù di lì. Poi per questo per quanto riguarda il Nasdaq, sapete che il Nasdaq è importante per Bitcoin, per quanto riguarda Bitcoin invece siamo più o meno nella stessa situazione, come vedete abbiamo avuto un segnale di sell alla rottura, infatti combinato con la price action questo è un ottimo indicatore, in questo momento siamo in una fase di distribuzione, un'altra fase di distribuzione che praticamente quello che vedo è questo, qua abbiamo una fase qui in cui il prezzo si è stabilizzato prima di una continuazione o a ribasso o a rialzo e il fatto che queste D rosse e M rosse che vedete vuol dire che il prezzo si trova sotto dei prezzi mensili e giornalieri importanti bearish, vuol dire che il prezzo in questa situazione è bearish, ok? quindi è molto probabile che alla rottura dei 20700 si vedrà la lag down del dump di continuazione, questo se non riesce a recuperare la zona dei 22700, il prezzo deve recuperare questa zona qui per ritornare bullish, ok? se perde questa zona dei 20700 ovviamente io piazzerò un altro short qui, quello del Nasdaq l'ho già chiuso, probabilmente lo riaprirò una volta che vedrò un altro dump e quello che mi aspetto io è questo, mi aspetto la perdita di questa zona, probabilmente aprirò un'altra situazione. Comunque ragazzi, adesso torniamo da Votio perché tanti stavate aspettando, allora l'ultima fase inizia il 22, quindi praticamente è iniziata già ieri e finisce il 31 agosto, il prezzo sarà di, intanto andiamo sul sito quello che volevo farvi vedere, questo è il sito quello nuovo, quindi il prezzo è di 0,01 centesimo e il prezzo di lancio sarà di 0,05 centesimi, il lock period, e state attenzione a questa parte, quindi è un anno, quindi voi per un anno non potete vendere i vostri token, poi il vesting period è lineare per 10 mesi terminato il lock time period, quindi per 10 mesi successivi al lockdown period ci sono altri mesi di distribuzione lineare. L'investimento minimo per riceverlo a questo prezzo è di 500 USD, ok? quindi dovete sempre fare in crypto, quindi stablecoin e vi lascio anche il link qua, il link di affiliazione se volete usarlo per ricevere diciamo più token in caso comprate o decidete di investire, questa ovviamente è una cosa che io vi invito a guardare anche da voi, infatti vi lascio anche il link, il video che ho fatto in precedenza di Avotio la prima volta in cui spiego il progetto perché non voglio spiegare tutto il progetto nuovamente qui, brevemente vi dico soltanto che è un progetto di crowdfunding, quindi in cui ci sono come vedete qua per esempio dei progetti che tu puoi votare, ci puoi investire, ovviamente ricevi comunque, diventi investitore di questi progetti e quindi ovviamente partecipi anche alla distribuzione dei profitti futuri in caso il progetto vada a buon fine. Poi il lancio sarà su PancakeSwap il 15, con 500 allora se fate un investimento di 500 ricevete la maglietta e il cappellino, sono molto belli e con 1000 ricevete la maglietta cappellino e la felpa. Poi anche se voi avete un investing period potete comunque votare su dove investire, cioè su quali progetti la piattaforma dovrebbe investire, quindi comunque avere una voce in capitolo sugli investimenti, quindi questa è una cosa molto buona, e poi altre cose, andiamo a vedere il sito quello nuovo, come vedete qua c'è già un progetto, quindi basta fare discovery, poi qua vi da la descrizione del progetto, vi da dei documenti, quindi potete andare a vedere il pdf, la brochure, ci sono altre descrizioni, skills needing marketing, questa è la galleria, andiamo a vedere altre cose, qui c'è un altro progetto, Crypto Space Hunter, a mobile game, quindi questo è un mobile game, vediamo, ok, come vedete ci sono dei progetti interessanti, videogame developer, quindi scrivono anche quello che serve per il progetto, online shop, quindi vedete che ci sono già dei progetti da poter votare se volete, probabilmente anche investire, andiamo a vedere, poi potete collegare il vostro wallet qua, quindi se fate connect wallet vi connette il wallet, comunque ragazzi, lascio il link in descrizione del video precedente dove parlo in modo dettagliato del progetto, io ho investito in questo progetto come tanti della community che so che hanno investito, è un progetto che ovviamente serve nel mondo crypto quello diciamo del crowdfunding, ovviamente investite sempre quello che potete permettervi diciamo di rischiare, comunque sono fasi di lancio, stiamo parlando di un progetto che sta lanciando, quindi comunque dovete sempre valutare i rischi associati, però dovete anche valutare magari anche ricompense come per esempio il lancio a 0,1 centesimo in futuro, se questo è un progetto valido che va avanti, ovviamente il gain è tantissimo e come sempre i rischi reward sono sempre diciamo bilanciati, nel senso se rischiate tanto solitamente avete un reward maggiore, se rischiate di meno avete un reward minore, come adesso investire in bitcoin, massimo potete fare un 2x, 3x nel giro di 10 anni, se investite per esempio in ethereum, vet, cardano, questi qua magari hanno un rischio più alto ma hanno anche un reward più alto, stessa cosa vale per quanto riguarda i lanci nuovi, nuovi progetti, io nel 2021 ho investito in tanti ICO, tra cui anche avuti io e sinceramente molti ovviamente hanno fatto male ma tanti quelli che hanno fatto bene hanno fatto veramente tanto bene, quindi spero, spero che questo sia uno dei progetti che farà bene, conosco il team, il team è veramente capace, sembra che loro ci tengano molto diciamo a questo progetto, anzi fatemi sapere voi se seguite molto questo progetto, se ci avete investito fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, cosa pensate del team, ovviamente c'è anche il loro telegram, quindi se andate sul loro telegram loro sempre mandano aggiornamenti, c'è gente che fa domande, tutte queste cose, quindi vi consiglio di andare sul loro telegram, seguirli su twitter, seguire i loro social e ovviamente andare a vedere il sito e il whitepaper, guardate il mio video se volete sul whitepaper in cui io parlo dettagliamente del whitepaper e altre cose e ovviamente fate le vostre valutazioni, decidete se per voi, secondo voi è un buon investimento oppure no, anzi fatemi sapere anche nei commenti se avete già investito, se decidete di investire o se volete più informazioni. Per il resto è tutto ragazzi, più tardi forse o più tardi o domani farò un video di aggiornamento un po' più dettagliato sull'analisi tecnica, in questi giorni non ho avuto molto tempo di stare al pc e anche vi aggiornerò sull'indicatore che sto creando e per il momento è tutto e ci vediamo al prossimo video.